Le saponette wifi, quei dispositivi portatili che servono per collegare in wifi, in mobilità, tutti i nostri apparecchi, laptop, tablet, altri cellulari, sono comodissime. Vai in vacanza, sei fuori ufficio, ti porti la chiavetta e ti colleghi al mondo. Ma non piccolo inconveniente, possono adepitarti anche 1500 euro sul tuo conto corrente senza che te ne accorga. Ti sembra impossibile? Beh, è esattamente quello che è successo a una nostra ascoltatrice di cui ti raccontiamo in questa puntata la storia. Io sono Michele Vitale e questo è il podcast Basta Bollette. Bentrovato, bentrovata nel podcast Basta Bollette, il podcast che ti dà i superpoteri per combattere i soprusi delle grandi compagnie. Come preannunciato, in questa puntata ci occupiamo delle utilissime saponette, e cioè quelle specie di router modem portatili, dove inserendo una sim e ovviamente attivando un piano tariffario apposito, ci permettono di collegarci a internet con tutti i nostri dispositivi collegati a loro volta in wifi alla saponetta. Ebbene, questi prodotti, questi strumenti hanno l'inconveniente che non sempre ti permettono di controllare agevolmente e velocemente eventuali addebiti imprevisti sulla saponetta. Beh, poco male mi dirai. Io ho stipulato un abbonamento che prevede un tetto massimo di spesa a 10-15 euro al mese e so che in quel tetto massimo posso navigarci per 10-20 giga, che sono più che sufficienti per il mio utilizzo standard di internet. Quindi non posso avere sorprese. Ebbene, non è proprio così, perché già saprai che sui dispositivi cellulari, sugli smartphone, sono frequentissimi gli abbonamenti di servizi non richiesti, come abbonamenti a servizi di suonerie, di oroscopo, di immagini erotiche, giochi, eccetera. Abbonamenti che partono a volte senza che ce ne rendiamo conto e certamente senza che lo vogliamo. Questo perché nella navigazione di molti siti sono spesso nascoste alcune insidie legate magari a dei banner oppure semplicemente a degli strumenti tecnologici, software, che fanno scattare l'abbonamento alla semplice pressione del display del telefono, allo scorrimento o al click di un banner, piuttosto che alla semplice navigazione, che però costano parecchi soldini. Si parla in genere di abbonamenti intorno alle 5 euro a settimana. Quando questo succede su uno smartphone, l'utente dovrebbe essere obbligatoriamente avvisato dell'attivazione del servizio non richiesto attraverso un sms che lo informa del costo settimanale e delle modalità di disdetta dell'abbonamento. Solitamente mandando un messaggio in risposta all'sms che si riceve oppure chiamando un numero verde indicato nel messaggio. Certo, di per sé, anche l'abbonamento non richiesto sul cellulare è una bella rogna, una bella gatta da pelare che ci impone intanto di disattivarlo immediatamente e poi di avviare una procedura più o meno lunga e complicata per ottenere la restituzione, quindi il rimborso delle somme indebitamente sottratte all'operatore telefonico che a volte ci concede e a volte no. Quindi la cosa di per sé è molto fastidiosa e a volte non ha una semplice soluzione ma almeno abbiamo lo strumento per rendercene conto che è l'sms che ci arriva e la comunicazione quindi di attivazione alla quale possiamo reagire prontamente. Il problema sorge invece quando questi abbonamenti vengono attivati sulle cosiddette saponette ed è quello che è successo alla signora Maria che ci ha contattato oggi attraverso il nostro sito bastabollette.it la quale dice che improvvisamente hanno scoperto dagli estratti del contocorrente che questi addebiti in un anno ammontavano a 1400 euro. Come può essere successo che un addebito così consistente sia passato inosservato? È successo perché gli abbonamenti come dicevo sono settimanali e settimana per settimana in un contocorrente magari familiare, magari aziendale voci di spesa di 5-10 euro ripetute possono passare inosservate nel gran numero di operazioni presenti sulla lista dell'estatto conto. Ecco però che sommando i mesi complessivi di questi addebiti si può arrivare a cifre anche consistenti e la signora ha fatto proprio questo conteggio complessivo delle numerosissime settimane in cui è stata inconsapevolmente e involontariamente vittima di questa attivazione non richiesta e allora è arrivata alla conclusione di aver pagato ben 1400 euro. Anche perché dice la signora io non ho avuto modo di verificare le fatture perché le fatture non venivano spedite non erano cartacee e venivano mandate per email e la mail non era monitorata costantemente e la signora non faceva caso alle fatture di Vodafone, non le apriva per controllarne poi meticolosamente il contenuto e in effetti non aveva nessun motivo per controllare le fatture dato che la signora aveva firmato un contratto che prevedeva un fisso mensile per cui riteneva correttamente che la fattura contenesse sempre la stessa cifra e quindi non dovesse essere controllata. Inoltre nel caso della saponetta quello strumento di tutela fondamentale che è l'SMS di comunicazione e di attivazione del servizio evidentemente non funziona perché la saponetta di per sé non è uno strumento con display e quindi non è uno strumento normalmente sul quale possiamo controllare gli SMS in realtà gli SMS possono arrivare perché gli SMS attengono alla SIM inserita nella saponetta e quindi la SIM li riceve ma la procedura di controllo è assai articolata e non alla portata di tutti implica l'installazione di un software apposito sul PC implica l'utilizzo di questo software nei meandri dei menu per andare finalmente a reperire la voce SMS ricevuti e a leggerli quindi potendosi solo a quel punto rendersi conto di ciò che eventualmente si è ricevuto via SMS. La signora dopo aver scoperto gli addebiti ovviamente si è mossa prontamente innanzitutto mandando una raccomandata a Vodafone e chiedendo l'immediata disattivazione del servizio e la cessazione del contratto giustamente era molto scocciata e voleva in ogni caso interrompere la relazione contrattuale con Vodafone data la mancanza di fiducia oramai che era intervenuta tra lei e l'operatore e poi ovviamente la signora chiede il rimborso delle somme e rimborso che però viene negato o meglio le viene accordato una generosa offerta di ben 80 euro a fronte ripeto delle 1400 euro prelevate e giustamente la signora non ha nessuna intenzione di accontentarsi di questa offerta e quindi si rivolge a basta bollette e noi abbiamo presentato alla signora il nostro menu per dare il ben servito a Vodafone che consiste in un antipasto di ricorso al corecom della regione residenza della signora per effettuare un tentativo di conciliazione tentativo che è obbligatorio prima di poter fare qualsiasi azione legale e che in sostanza mette le due parti la signora e Vodafone intorno a un tavolo insieme a un conciliatore indicato dal corecom che è l'ente pubblico preposto e ideato dalla gcom per la conciliazione di controverse telefoniche e insieme in tre si cerca di raggiungere una soluzione amichevole che possa soddisfare le legittime aspettative di rimborso della signora se questa soluzione non viene trovata allora l'utente ha la scelta di procedere con un'ulteriore fase sempre davanti al corecom che è la fase decisionale in cui il corecom decide come se fosse un giudice sulla distanza della signora oppure fare una richiesta giurisdizionale quindi avviare un'azione civile davanti al giudice di pace dato l'importo in cui la signora chiederà al giudice di riconoscere il suo credito e condannare Vodafone al pagamento della somma noi abbiamo suggerito alla signora di procedere più presto con quest'ultima soluzione che secondo noi è la più efficace e anche la più veloce dati i lunghissimi tempi di attesa dei corecom regionali specialmente di alcune regioni come la Puglia o il Lazio e quindi adesso dovremo procedere con una azione civile siamo molto sicuri che la cosa andrà a buon fine perché non è certo la prima sentenza ne abbiamo avuta proprio una recentemente da parte del Tribunale di Milano che ci ha visto vittoriosi contro Vodafone così come tanti altri operatori che sentenza che ha condannato l'operatore al pagamento di una somma importante erano 1900 euro di addebiti non richiesti di cui l'istante l'utente chiedeva il rimborso insieme anche a un risarcimento di 500 euro oltre al riconoscimento delle spese legali che Vodafone deve pagare ecco però vorrei anche darti qualche consiglio su come evitare di dover ricorrere al giudice e quindi magari qualche suggerimento per evitare a monte il problema degli addebiti non richiesti nel caso tu abbia una saponetta e tema di dover anche tu subire questi addebiti consistenti intanto se hai chiesto la fatturazione elettronica o ricevi i resoconti via mail occhio perché il fatto di non avere li cartacei regolarmente recapitati nella cassetta di posta tradizionale è un ostacolo al fatto che li possiamo controllare agevolmente tante volte i messaggi di posta elettronica passano inosservati quindi se si ha una saponetta e si ha un resoconto elettronico mandato via mail mensile occorre prestare attenzione per eventuali addebiti così come è opportuno installare un'app che di solito si installa sul proprio cellulare e che consente di monitorare tutti i costi sia quelli ordinari attesi come l'impegno mensile l'abbonamento che si paga per la connettività e sia anche i costi straordinari come gli sms a pagamento i servizi di abbonamento e altre cose che magari ci vengono addebitate senza che ne abbiamo fatto richiesta tra l'altro nelle note dell'episodio inserirò il link al nostro sito internet che contiene vari articoli che abbiamo pubblicato che mostrano passo passo su come usare queste app per andare a scaricare l'elenco dei servizi non richiesti eventualmente attivati altro consiglio in caso di anomalia in caso dovessimo renderci conto di un addebito anomalo bisogna chiamare subito il servizio clienti e chiedere 1. la disattivazione del servizio eventualmente attivato e 2. il rimborso dell'addebito non richiesto questo perché se lo si fa immediatamente si ha una maggiore probabilità di vedere l'operatore rimborsare il servizio laddove invece si fa passare anche semplicemente 3 o 4 settimane l'operatore risponde dicendo che ci siamo attivati troppo tardi che avremmo dovuto accorgercene prima è colpa nostra se non l'abbiamo controllato e giù via una serie di diballe che dicono perché evidentemente la maggior parte degli utenti si accontenta di queste scuse e crede di avere colpa nel non aver controllato e quindi si arrende nella richiesta di rimborso in realtà il diritto al rimborso non decade dopo 4 settimane e si può sempre fare anche se è passato parecchio tempo infine l'ultimo consiglio è far attivare dall'operatore sempre tramite servizio cliente il cosiddetto barring sms cioè il blocco alla radice della possibilità di attivazione di servizi non richiesti in questo modo possiamo stare tranquilli che anche compiendo operazioni diciamo così pericolose come visitare siti di notizie gossip o quotidiani dove possono esserci legate delle attivazioni pericolose di abbonamenti non richiesti con il barring queste attivazioni non possono proprio avere luogo ed esserci addebitate occhio però perché abbiamo avuto parecchie segnalazioni da parte di utenti che avevano attivato il barring e poi hanno comunque ricevuto servizi non richiesti perché il barring guarda caso si era improvvisamente autocancellato o meglio su richiesta dell'utente l'operatore del servizio clienti gli ha risposto che l'utente aveva chiamato il servizio clienti per cancellare il barring cosa ovviamente non vera ma purtroppo è successa parecchie volte e questo conclude quanto avevo da dirvi oggi sull'argomento saponette e attivazioni servizi non richiesti grazie per avermi seguito fin qui e se ti è piaciuta la puntata condividila con i tuoi amici e soprattutto iscriviti al canale podcast basta bollette basta farlo dalla tua app preferita che usi solitamente per ascoltare questa trasmissione oltre ovviamente a mettere una bella recensione 5 stelle su iTunes che aiuterà notevolmente il mio podcast a raggiungere nuovi ascoltatori a presto a presto a presto